La fedeltà al Signore, e questo non delude. Se ognuno di noi è fedele al Signore, quando venga la morte, ma diremmo come Francesco, sorella morte, vieni, non ci spaventa. E quando sia il giorno del giudizio, guarderemo il Signore, Signore, ho tanti peccati, ma ho cercato di essere fedele. E' il Signore buono. Questo consiglio vi do, sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Con questa fedeltà non avremo paura alla fine, alla nostra fine non avremo paura il giorno del giudizio.